Sono Stanislava Uciello, sono un Gedeone, sono il presidente del campo qui di Arezzo. Noi portiamo, come vedete, dei nuovi testamenti, la parola di Dio, a quanti oggi hanno bisogno. Siamo in rianimazione perché Dio ci ha messo nel cuore di dare, diciamo, attraverso questa distribuzione una parola di conforto, anche se non possiamo avvicinarli, visto la situazione, però il nostro desiderio è che gli operatori sanitari possono distribuire a questi uomini, queste donne che stanno vivendo questa esperienza, diciamo, questa parte della parola del Signore. E a margine della donazione abbiamo fatto il punto con il primario di terapia intensive e rianimazione, Marco Feri. A quantità di casi rimaniamo sempre intorno ai 100 nuovi contagi su Arezzo, per cui ancora siamo nell'occhio del ciclone, diciamo così. Poi abbiamo il problema che questi pazienti hanno tempi di degenza estremamente lunghi, per cui è chiaro che ogni paziente che rimane qui 20-30 giorni vedremo un calo da parte nostra molto più lento nei prossimi mesi, nei due mesi successivi al calo che ha avuto l'ospedale. Abbiamo visto un'espressione di malattia che è differente da quelle precedenti. Possibilmente legata alle varianti e a tanti altri motivi che ci possono essere. Comunque pazienti veramente importanti, gravi. E il paziente più giovane tende a rimanere più a casa e a volte arriva in situazione più precaria di quelli che invece si presentano prima a essere presi in carico dal servizio sanitario. Abbiamo visto delle espressioni, molta espressione renale, espressioni epatiche, abbiamo visto sanguinamenti che prima non vedevamo, trombosi improvvise, insomma una situazione importante, malati importanti. Abbiamo visto anche pazienti che non hanno storia di malattia, non sono tanti perché meno l'ipertensione e con espressioni a volte di malattia che non abbiamo visto nelle mandate precedenti, eruzioni cutanee legate allo scaterarsi dei processi infiammatori oppure compromissione muscolare con degradazione muscolare che poi dopo interviene sul rene e ti dà l'insufficienza renale. Insomma situazioni diciamo complessivamente più sistemiche forse della semplice lesione polmonare.